Ciao a tutti, queste sono delle forbici molto particolari, non tutti le conoscono, sono forbici come vedete con un unico anello, sono fatte a Premana, quindi made in Italy, provincia di Lecco, di alta qualità e sono delle forbici in particolare adatte al taglio di fili perché sono molto precise, quindi fili sia in cotone o in seta ma anche fili da pesca per bigiotteria, si inserisce il dito medio o l'anulare nell'anello e poi con indice e pollice si attiva la molla interna, quando si è finito di tagliare la mano rasta libera, quindi si può continuare a fare qualsiasi tipo di lavoro con queste forbici particolari inserite in un dito. Sono utili anche per chi utilizza la macchina da cucire, averle sempre a portata di mano nel vero senso della parola, quindi per cucito e ricamo, ma anche come dicevamo per i fili da pesca, per chi fa perline, bigiotteria, è un tipo di forbici particolari ma molto utili, soprattutto per la precisione e per avere le mani libere in qualsiasi momento. Queste come dicevo sono forbici di alta qualità prodotte a premana, quindi una garanzia anche in marchio, vengono fornite con l'astuccio e anche il cappuccio per la punta. L'astuccio le rende anche comode per il trasporto. Se vi interessano queste forbici trovate tutto sul nostro sito elettronicadidattica.com. Io vi aspetto per i prossimi video, novità sempre all'avanguardia. Vi saluto, ciao a tutti, a presto!